In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere le migliori macchine del caffè a capsule. L'Italia è il paese del caffè espresso, ma non sempre al bar sotto casa è possibile trovare prodotti di qualità per questo sempre più persone hanno iniziato a dotarsi di macchine da caffè in cialde o in polvere. Oltre che comode permettono un notevole risparmio, ma come scegliere la migliore? Almeno che non vogliate aprire una caffetteria, non è necessario acquistare delle macchine da caffè professionali per ottenere un ottimo espresso da gustare comodamente sul divano dopo cena o pranzo. La scelta d'acquisto per la migliore macchina caffè in cialde può essere determinata da molteplici fattori. Qualcuno potrebbe basare la propria scelta sulle funzioni nella preparazione per una vasta scelta di bevande calde da scegliere che spaziano dal caffè lungo, al caffè macchiato fissile. Fino al classico cappuccino altri preferiranno optare per uno strumento semplice e dal design elegante. Il funzionamento nella preparazione è molto semplice, è sufficiente inserire la capsula di caffè all'interno, grazie a un apposito bottone per la preparazione, l'acqua scaldata da una resistenza metallica viene convogliata a mezzo di una pompa per estrarre dalla miscela la nostra tazzina di caffè. Il passaggio dell'acqua nel filtro durante la preparazione dell'espresso crea una densa crema dorata dal sapore equilibrato, caramellato, dolce, con note speziate. La macchina da caffè tradizionale si differenzia per l'utilizzo di caffè macinato da inserire nel portafiltro, solitamente sono elettrodomestici già dotati di cappuccinatore. Grazie. 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 Grazie.